è una domenica pomeriggio stiamo raggiungendo il monte due mani su carta un'ora e mezza 500 di metri di dislivello circa credo di non averla mai neanche fatta da qua dalla forcella di olino e sono in compagnia del mitico andrea allo fallo hikers siamo in compagnia di cicilia maria ai di ai di le gavette No, abbiamo incontrato queste ragazze che stanno scendendo ora dal Monte Due Mani, corretto? Vi è piaciuto? Tantissimo Il panorama è bello? Mamma mia, stai bello C'è tanta gente su? No, era pieno quando siamo scendendo Quindi vi aspettiamo al prossimo tramonto Esatto, alla prossima Ragazzi, il prodotto che io consiglio Non sono stato sponsorizzato Semplicemente delle microbanane simpaticissime Ciao ragazzi, sto avendo problemi con la camera purtroppo Sono quasi le 9 Qua ci sono 12 gradi, fa freschino Dai, allora andiamo Eccoci ragazzi, siamo alle macchine È stato molto bello I tramonti, le notturne, così sono veramente una roba speciale Mi piacciono molto Grazie Milena Cito Milena perché mi ha proposto qualche mese fa la grignetta Da lì poi mi sono innamorato Veramente affascinante I colori e tutto quello che succede poi verso sera Quindi allora abbiamo fatto 5,72 chilometri 551 di ascesa Beh, allora il sentiero è molto semplice C'è qualche pezzettino leggermente esposto Dai, bella lì Buonanotte a tutti Alla prossima Stay tuned Alla prossima